Assessore, la musica italiana è cantata da un tenore italo-americano di origini campobellesi ieri sera. È stato un ospite d'eccezione, per noi è stato un piacere poter offrire uno spettacolo di così grande taglio, avendo il tenore in quanto di origini campobellesi ha messo a disposizione la sua voce e la sua arte. Quindi ringraziamo il tenore e ringraziamo anche le pianiste Carmelina Sicilia e Maria Rita Pellitteri. Come si è avuto questo incontro? L'incontro si è avuto perché il tenore, dopo non avere mai conosciuto le proprie origini, ha deciso di venire in Sicilia e proprio a Campobello, quindi l'amministrazione non poteva farsi scappare a un'occasione simile. Che state si preannuncia per il vostro paese? Ci stiamo già organizzando perché capite che i tempi sono ormai arrivati per l'estate campobellese, stiamo organizzando delle bellissime manifestazioni, speriamo che tutto vada bene. È stato un piacere a cantare nella terra di mio bisnonno e di poter vedere in prima persona com'è qui in Sicilia. Gli hanno raccontato molte cose molto belli, però a vederlo appunto in prima persona è tutta un'altra cosa. A me piace un sacco di essere qui e insomma godere questa terra siciliana. Per primo ho pensato al film Il Padrino, seconda parte, il bel paesaggio che ho visto lì, però infatti poi il mio nonno mi ha raccontato molte storie della Sicilia. Però è stato naturalmente molto più bello di essere qui in prima persona e vedere com'è davvero la Sicilia. No, 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 no.